Presidente, allora il Prato è pronto a tornare a lungo Bisenzio. L'ipotesi più probabile è il 17 di ottobre, match interno con il Saravezza Pozzi. Ci si può fare? Non lo devi chiedere a me, hai fatto la domanda alla persona sbagliata. Nel senso che quello che dobbiamo fare noi, in atto, domani al 30, presenteremo tutte le polizie fiduissorie previste da bando e tutte le autocertificazioni previste, per cui domani verrà inviato tutto via Pecca al Comune. Ci è stato chiesto di partecipare alla Commissione, mi sembra di capire, convocata per il lotto forse, non vorrei sbagliarmi la data, dove noi dobbiamo presentare il piano di sicurezza come ente gestore e gli addetti alla sicurezza, insomma i piani di sicurezza dello stadio. Su questo stiamo già lavorando, abbiamo già presentato una scia ieri propedeutica, per cui noi porteremo quello che dobbiamo portare alla Commissione di Vigilanza. Il Comune dovrà portare invece una serie di documenti su progetti precedentemente fatti allo stadio per completezza, immagino, di materiale tecnico. Come sai, ben sai, il problema fondamentale di Lungo Bisencio, perché è stato fatto un gran lavoro, io ho fatto anche io il sopralluogo, il campo mi sembra perfetto, gli spogliatoi all'interno si sono fatti un ottimo lavoro, come sapete il problema è la tribuna coperta. Tribuna coperta, con il Comune non abbiamo ancora aperto un dialogo sulla tribuna, perché loro stanno assegnando l'appalto, e per cui se non sappiamo neanche qual è la ditta, mi dicono dal Comune, a cui verrà assegnato l'appalto, non si può sapere neanche le attrezzature che ha a disposizione, perché faccio un esempio, se avessero le piattaforme, quelle automatiche e pneumatiche, non avrebbero bisogno di montare i ponteggi. Questo aiuterebbe per due motivi, il primo perché i ponteggi oggi non si trovano in giro, perché col 110 sono quasi introvabili, il secondo non sono fisse e per cui non creerebbero un intraccio alla sicurezza. Ma queste sono tutte ipotesi, per cui noi apriremo un dialogo, leggo dai giornali, perché io non ero stato avvisato di un'ipotetica tribuna temporanea coperta, potrebbe essere una soluzione, però su questo col Comune non ne abbiamo ancora parlato, almeno con noi a Ciprato non ne abbiamo ancora parlato. Quindi il Prato potrebbe accettare, nel caso in cui ci fosse questa tribuna coperta temporanea, di poter tornare a lungo presente? Assolutamente sì, non è un capriccio ovviamente, ci mancherebbe, siamo collaborativi. Il tema della tribuna coperta, come immaginerete, è per dare anche 30-40 sedie, non per la vendita, ahimè, per i tifosi, ma bensì per la squadra ospitante, il Presidente, per i nostri dirigenti, che non possono certo andare né in curva né nel settore ospiti. Solo quello, una volta avute quelle garanzie, noi torneremo anche domani, guarda Massi. Anzi, a me farebbe piacere una bella festa per l'apertura finalmente dei tifosi nel Bisenzio, come consigliato alle stesse tifosi, anche con prezzi più calmierati per riempire il lungo Bisenzio nel giorno del ritorno. Ultima domanda, si parla di un sussidiario in sintetico, siete pronti? Noi siamo pronti, siamo pronti, abbiamo chiesto al Comune se potevamo fare noi la spesa, oppure comunque per anticiparla per conto del Comune, ci è stato detto di sì, abbiamo già il preventivo, abbiamo già i tempi, parliamo di circa 30 giorni lavorativi dal T0, dal kick-off, aspettiamo dal Comune la consegna dello stadio, perché è la possibilità di entrare, perché non è detto che col cantiere aperto, anche se c'è l'assegnazione, poi si possa accedere per fare dei lavori paralleli, per cui attendiamo il Comune domani, una volta inviate tutte le carte, attendiamo il giorno della firma, del giorno di ingresso nel nostro abitamento.